Musica Siate educatori, il Vescovo Fragnelli in visita pastorale nelle redazioni in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati con la nostra notizia del giorno, vediamo insieme il servizio. L'occasione, dopo quella di poche settimane fa per gli auguri di Natale, è stata la ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il Vescovo Fragnelli è stato accolto dal direttore Nicola Baldarotta, a cui ha donato un quadretto con il simbolo della diocesi di Trapani. Nel corso dell'incontro con la redazione e tutto lo staff dell'emittente, Fragnelli ha commentato un passaggio del Laudato Si di Papa Francesco, in cui si parla di civiltà dell'amore. Diversi temi su cui si è soffermato, a partire dalla ricerca della qualità e il ruolo di educatori, che possono avere i giornalisti stigmatizzando certe cronache recenti, anche nel confronto avuto con il presidente di Telesud Massimo Marino, dove si è tenuto troppo poco conto della pietà umana, scadendo nel sensazionalismo di maniera che certo non giova alla società e alla stessa categoria. Ma sentiamolo ai nostri microfoni. Sicuramente questo tema dell'educare attraverso la comunicazione è un tema di estrema importanza. Io sono fiducioso che anche i nostri esperti della comunicazione in loco si attiveranno, si attivano sempre di più a ridefinire la cornice, perché tutti i macrofenomeni dell'immigrazione e della globalizzazione impongono una rilettura della cornice entro la quale comunichiamo, diamo delle notizie. Ma tutto questo non può essere fatto senza una attenta lettura delle situazioni locali. Quindi c'è una cornice interna, diciamo così. Quindi la qualità nasce nella tensione tra la cornice esterna e quella interna. E fa sì che in un caso e nell'altro ci sia sempre la persona al centro, ci sia sempre la persona più vulnerabile, ci sia sempre l'incoraggiamento alle situazioni costruttive, positive. Ci sia sempre anche una capacità di giudizio, perché alla fine l'operatore della comunicazione è educatore nella misura in cui insegna a distinguere quello che è per il bene comune e quello che è contro il bene comune. In questo senso, educare significa attraverso i media, attraverso le immagini nella parola, significa fare sempre un passo avanti coraggioso. Un mondo, quello dei social media, li chiamano in questo modo, in cui si va sempre più alla cerca dei like, della condivisione, del numero di questi numeri, che a volte però scacciano un po' quelli che sono i veri valori dell'umanità, della verità. Quello che un po' è la nostra mission, ma che oggi va su internet e che viene fatto un po' da tutti. Sì, ma io rifletto spesso sull'idea che cosa mi piace in questo mondo della comunicazione facile, dei like facili o dei like discutibili. Che cosa realmente mi piace? Io vorrei augurare, auspicare che possa sempre di più piacere quello che piace a tutti e non alla singola persona, all'individuo. Vorrei cercare una sorta di grammatica del piacere che passa attraverso un uso intelligente, saggio, dei nuovi media, dei nuovi social. La capacità di non essere succubi, di una tendenza a intruppare tutti gli utilizzatori dei media in persone che rispondono soltanto a degli input di natura economico-commerciale. Insomma, ecco, questo è importante. In questo senso, educare anche attraverso l'uso. Non bisogna fuggire dalla realtà dei media, bisogna educare a utilizzarli bene. Sindaca di erice prosciolta Daniela Toscano non usò impropriamente l'auto di servizio e sul decreto penale per un'altra vicenda annuncia opposizione. I funerali del Cavaliere, oggi a Marsala le esecue del Cavaliere Aurelio Ombra, capitano di industria ad altitrempi. Un corso di incocciata, l'associazione Hashtag Stessa Squadra promuove la tradizione culinaria tra le nuove generazioni. Visita medica in sospeso, presentata l'iniziativa solidale della Fondazione MBA Hilt Italia, a cui hanno aderito alcuni medici trapanesi. E per lo sport, Nember va via. Ieri il comunicato ufficiale delle strade tra Trapani Calcio e il direttore sportivo si sono interrotte. Dopo tre mesi, Nember lascia Trapani. Palla canestro, oggi alle 17, coach parente presenterà la sfida con Biella. Bisbini Park, verso la chiusura forzata, nell'approfondimento delle 14.20, ampio servizio sulla vicenda che vede il comune di Trapani intimare lo sgombero dell'aria dalla tenso struttura che ospita il parco giochi. Eccoci ancora insieme un rinnovato buongiorno a tutti voi. La sindaca di Erice, Daniela Toscano, prosciolta, non usò impropriamente l'auto di servizio. Il GIP ha archiviato il caso. Il giudice per le indagini preliminari di Trapani ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della sindaca di Erice, Daniela Toscano, accusata di peculato e abuso d'ufficio per l'utilizzo improprio della vettura di rappresentanza. Ne ha dato notizia, nella tarda serata di ieri, la stessa sindaca, specificando che il giudice ha ritenuto infondata la notizia di reato, non sussistendo alcuna condotta illecita. I fatti risalgono al novembre 2018. Daniela Toscano consentì l'utilizzo della vettura in rappresentanza alla consigliera Miceli perché questa potesse assicurare la propria presenza in seduta del Consiglio Comunale. L'utilizzo della vettura, si legge nell'ordinanza, avvenne per finalità istituzionali. Il pronunciamento del GIP, secondo Daniela Toscano, dimostra quanto sono pretestuose le denunce di taluni soggetti politici che sconoscono leggi e regolamenti. Una stoccata nei confronti del Consigliere Comunale Alessandro Manoguerra, dal quale partì l'esposto. Il provvedimento di archiviazione, ha detto la sindaca, ha riconosciuto la legittimità del mio operato, come sempre lo è stato in questi anni di amministrazione. Infine, Daniela Toscano coglie la palla al balzo per rigettare l'ultima recentissima vicenda legata a un decreto penale di condanna che le sarebbe stato inflitto per una vicenda a margine di quella dell'assessore catalano. Nessuna condanna è stata inflitta alla sottoscritta, dice. Più semplicemente la Procura ha ritenuto di attivare un procedimento speciale, appunto il decreto penale, che peraltro, in segni giuristi, hanno tacciato di essere un istituto legato al vecchio codice inquisitorio. Ad oggi nessun decreto penale è stato notificato né a me né al mio difensore, dice la sindaca toscano. Quando e se mi verrà notificato questo fantomatico decreto, poiché non si tratta di una vera condanna, provvederò tempestivamente a proporre opposizione e a chiedere il giudizio ordinario, certa come sono che un giudice terzo non potrà che riconoscere la mia estraneità ai fatti contestati. E ancora la sindaca toscano, forte del proscioglimento, rigetta con altrettanta forza la notizia della sua condanna per decreto penale. Ma per comprendere bene di cosa si tratta è necessario spiegare l'istituto del decreto penale. Ci pensa Fabio Pace. Si tratta di un procedimento speciale, il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento. È disposto dal giudice su richiesta del Pubblico Ministero quando quest'ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria, anche senza istituzione di pena detentiva, purché non sia necessario applicare anche una misura di sicurezza. La richiesta del Pubblico Ministero avviene entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro delle notizie di reato. L'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dall'emissione dello stesso richiedendo o il giudizio abbreviato, o l'applicazione della pena, o il giudizio immediato. Il giudice dovrà poi valutare se sostistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile, altrimenti il decreto diviene esecutivo. Il legislatore, per incentivare l'imputato a non opporsi al decreto penale di condanna, ha previsto che il Pubblico Ministero possa chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Inoltre il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena. Cambiamo argomento. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 in Chiesa Madre a Marsala i funerali di Aurelio Ombra, morto nella notte tra mercoledì e ieri nella sua abitazione. Ombra, imprenditore marsalese tra i più noti in Sicilia, era nato il 13 agosto del 1932. Era stato nominato Cavaliere del Lavoro. Aurelio Ombra era padre del dottor Salvatore Ombra, presidente dell'Aergest, e di Massimo Ombra, amministratore della Medipower, SRL nonché della Mir Marsala Yachting Resort. La sua azienda, l'Ausonia, realizza gruppi elettrogini ed è leader nel settore in campo europeo. Nel pomeriggio di ieri siamo stati alla Camera Ardente, allestita a partire dalle ore 10.30 presso l'azienda in via Favara a Marsala e abbiamo raccolto il ricordo di uno storico dipendente dell'Ausonia, Luciano Rosas. Del Cavaliere si può dire tante cose. Prima, oltre che essere un imprenditore lungimirante di questa città, è stato un uomo e un padre di famiglia. Il suo orgoglio era che tutto ciò che noi costruivavamo qua dentro è stato sempre il balluardo dell'Ausonia, ma della città e di tutto il mondo. Dico, scompare un grande uomo, ha lasciato due figlie, prima il dottore Salvatore Ombra e poi l'ingegnere Massimo Ombra, che stanno ripercorrendo la stessa strada del Cavaliere, certo, con tecnologie più moderne, però dico, e questo sono certo, ecco, conoscendo il capitano Aurelio Ombra, se ne è andato sereno e tranquillo. È morto ieri pomeriggio a Marsala l'avvocato Antonino Buffa, presidente onorario della Camera Penale Lili Betana. Cordoglio è stato espresso alla famiglia, dai colleghi dell'anziano avvocato e soprattutto da parte dei penalisti del foro di Marsala, che si sono stretti nel ricordo al dolore della famiglia, ne hanno onorato la memoria, con la motivazione del premio alla carriera che gli era stato concesso il 19 ottobre scorso. In quella pergamena i colleghi di Antonino Buffa riconobbero che egli nella sua professione si è distinto per lealtà, impegno, correttezza e rispetto delle regole deontologiche. Ci fermiamo soltanto un attimo per la pubblicità. Un corso di incocciata, l'associazione e stessa squadra promuove la tradizione culinaria tra le nuove generazioni. Visita medica in sospeso, presentata l'iniziativa solidale della fondazione NBA Hilt Italia, a cui hanno aderito alcuni medici trapanesi. E poi lo sport, Nember va via. Ieri il comunicato ufficiale e le strade tra il Trapani Calcio e il direttore sportivo si sono interrotte. Dopo tre mesi Nember lascia Trapani. Palla Canestro, oggi alle 17, il coach parente presenterà la sfida con Biella. Un corso per imparare e incocciare Ucurscu, su iniziativa dell'associazione e stessa squadra a Marsala. L'associazione e stessa squadra, nata da un'idea della giornalista Antonella Lusseri per incardinare iniziative culturali e sociali di sensibilizzazione per la tutela dei diritti, ha debuttato l'avvio delle proprie attività con il corso di incucciata di Cuscus, che si è tenuto presso la marinara a Marsala. Trenta giovani donne hanno partecipato alla serata dedicata alle origini di uno dei piatti d'eccellenza della tradizione culinaria locale. L'obiettivo è stato quello di far conoscere le basi di una tecnica a rischio di sparizione fra le nuove generazioni. Semola e Grembiuli sono stati i protagonisti della serata, accompagnata dalla presenza della signora Paola, fautrice della tradizione gastronomica siciliana, prima nella capitale e ora a Marsala, dove con il marito Paolo gestisce un B&B e fa vivere ai suoi ospiti un'esperienza di viaggio al completo di sapori e profumi della nostra terra. Tra teoria, spirito di socializzazione e divertimento, ogni partecipante si è cimentata nella singolare lavorazione della semola propedeutica al Cuscus con la zuppa di pesce. L'evidente interesse per questo evento di esordio di stessa squadra, che ha centrato l'obiettivo di tutela delle origini, prima di tutto e della persona soprattutto, sarà la spinta per proporre nuove iniziative in campo enogastronomico aperte a tutti. Il panificio Mazzara di via Guglielmo Marconi a Trapani, rappresentato dalle titolari Giuseppina Loredana Mazzara, parteciparà nel prossimo mese di maggio alla manifestazione di solidarietà pane in piazza Milano, un'iniziativa che vedrà alcuni maestri della panificazione recarsi nel capoluogo lombardo ad ogni regione d'Italia ed impegnarsi per dieci giorni per sfornare le loro delizie H24 nell'angara in piazza Duomo, allo scopo di raccogliere offerte per il progetto dei frati cappuccini missionari, cioè la costruzione di un panificio industriale in Etiopia ad Irredaua, dove sarà insegnata l'arte della panificazione ai giovani locali. E questa mattina, nell'ambito della seconda edizione del progetto Un Canestro per Tutti, si è tenuta all'esterno del palacona della consegna di un pulmino, atto anche al trasporto dei disabili e all'associazione Solidalmente. Il mezzo è stato donato dall'azienda emiliana PMG. Presenti i rappresentanti dell'associazione, il sindaco Giacomo Tranchida e il vice sindaco Enzo Abruscato. Lo stesso principio del caffè sospeso, ma nella sanità, un'iniziativa di solidarietà sociale a cura della fondazione MBA Hilt Italia. Vediamo. Si è tenuta alla Sala Laurentina la conferenza dal titolo Come coniugare impresa e sostenibilità sociale, organizzata da FIDAPA, sezione di Trapani. L'evento ha promosso l'iniziativa Banca delle Visite a cura di MBA Hilt Italia, che ha l'obiettivo di fornire visite mediche specialistiche gratuite e in tempi brevi a chi non può permetterselo. In pratica, si applica lo stesso principio del caffè sospeso, ma in sanità. Al posto del caffè si rendono disponibili visite e prestazioni sanitarie per i più bisognosi. Alla Banca delle Visite si accede attraverso la piattaforma web di MBA Health Italia, bancadellevisite.it, in cui offerta e domanda si incontrano in modo trasparente e limpido. In una sala gremita, diversi medici presenti hanno, con grande generosità, aderito all'iniziativa, donando gratuitamente il loro tempo. Banca delle Visite è presente in tutta Italia e da ieri anche a Trapani, grazie alla dottoressa Daniela Laudicina, promotrice dell'evento. Vediamo insieme le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi cielo sereno con temperature comprese tra gli 11 e 15 gradi e venti moderati provenienti dal sud-est. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno dal sud-est. Per domani mattina, cielo poco nuvoloso con venti moderati provenienti dal sud-est. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi sui 15 le massime. Il mare sarà molto mosso con venti forti che soffieranno da sud-sud-est. Andiamo agli appuntamenti di questa sera alle 20.30 di Replica alle 22 e poi a mezzanotte e mezza andrà in onda Sipario tutto quanto fa spettacolo con Nicola Ugugliaro. Sua ospite è la lanzatrice Silvia Giuffre. Alle 21 e poi Replica alle 23 trasmetteremo invece Seconda Repubblica. Ospiti del direttore Nicola Baldarotta, nella prima parte il sindaco di Buseto Palizzolo Roberto Maiurana ed il sindaco di Erice Daniele Toscano. Adesso una breve pausa e poi torniamo con lo sport. Eccoci con lo sport. Apriamo col calcio. Luca Nember non è più il DS del Trapani. Ieri pomeriggio il comunicato ufficiale. Il 23 ottobre era stato presentato in conferenza stampa. Ieri l'addio. Luca Nember non è più il direttore sportivo del Trapani. Dopo tre mesi quindi si è interrotto il rapporto che aveva portato il direttore Bresciano a prendere il posto di Raffaele Rubino. Per lui anche un posto nel Consiglio d'Amministrazione Granata. Ora le cose con la società sono rapidamente precipitate. Dopo aver messo a segno tre colpi nel mercato degli svincolati il roboante arrivo di Biebiani dietro un onoroso compenso e poi Stramberg e Grigio e il direttore ha fatto in tempo a chiudere in questa sessione di mercato di riparazione altri colpi su chiara e netta indicazione di Mr. Castori. Buongiorno dal Monte Coulibaly già un po' di tempo fa e poi ieri qualche ora prima del suo addio l'arrivo del centrocampista Oger. Per ricostruire gli accadimenti che hanno portato all'interruzione del sodalizio tra Nember e la società Granata bisogna fare un passo indietro ed arrivare a lunedì nel tardo pomeriggio quando proprio lo stesso Nember riferiva di voler lasciare in suo incarico. Il giorno dopo la società Granata aveva diramato un comunicato stampa in cui si diceva assolutamente in linea con l'idea di Mr. Castori e cioè quella di portare a trapani solo giocatori già pronti nell'immediato a dare una mano alla causa. Insomma chiudere delle operazioni che anche dal punto di vista economico fossero ragionevoli. Poi il silenzio assoluto da entrambe le parti con il solo allenatore Granata intervenuto pochi istanti prima della conferenza stampa di Marco Moscati per dire che tra lui e il direttore non c'è stato alcun litigio e che hanno sempre lavorato in sintonia. Ieri pomeriggio un comunicato della società per dire che il trapani e Luca Nember hanno deciso di comune accordo di non proseguire nella collaborazione in corso nonostante abbiano lavorato con soddisfazione reciproca. La parte finale del comunicato invece ha voluto smentire le ultime notizie per non arrecare danno né al trapani né al direttore Nember. Insomma difficile capire veramente come siano andate le cose dove risiede la verità. La modalità di certo non è stata la più inconsona per permettere agli addetti ai lavori di raccontare passo passo gli accadimenti. Davvero sarebbe il momento di non avere più spunti per parlare di cose che si ascrivono fuori dal rettangolo di gioco. Parliamo di mercato alla rosa di mister Castori si aggiunge anche il centrocampista Mose Soger che ha già rilasciato la sua prima intervista. Sono contento di stare qua perché ho avuto le due andate poco più difficili per me ho giocato poco e ho trovato questa possibilità io voglio dare tutto a questa maglia per la salvezza perché io ho già fatto due play-out con Serenitana e oggi ho fatto allenamento con questa squadra se via l'intensità di allenamento io penso se noi continuiamo così e noi posso salvare questa squadra. Sono molto contento perché Cecilia ha avuto la mia prima esperienza come professionista e sono contento per stare qua e speriamo che fai bene qua. Del Prete ho giocato con lui a Catania cinque anni fa ma solo lui è Belmonte e Muscati perché ho giocato contro loro. Sì come ha detto prima sono contento per qua io la sua situazione qua dove solo salva e sono qua per aiutare la squadra per salva. Con questo mister lui gioca il mio avanti difensore per rubare la palla e da subito l'attaccante e fai il buon gioco e pure tieni un bel tiro fuori su area. Sono contento per qua io vorrei dare tutto per questa maglia solo questo posso dire per ora. A proposito di mercato non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale da parte della società Granata però praticamente Andrea Dini il portiere De Trapani sul suo profilo Instagram ha così scritto la serie C la serie C la vittoria la serie B vorrei scrivere tante cose un anno e mezzo pieno intenso e vero ricco di emozioni momenti indimenticabili un sogno raggiunto in questo percorso ho conosciuto persone fantastiche mi sono sentito a casa ed è proprio per questo motivo che porterò per sempre questi colori nel mio cuore ho dato tutto me stesso per questa causa ma come tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine è il momento di cambiare per cui questo l'anticipo da parte di Dini insomma è prossimo il suo trasferimento all'Avellino per quanto riguarda invece il calcio giocato questa sera l'anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B si giocherà tra Empoli e Chievo fischio di inizio fissato per le 21 passiamo adesso al basket domenica alle 17 e non alle 18 quindi alle 17 al Palacona della Paracanesto Trapani affronterà a Biella conosciamo meglio l'avversaria dei Granata nel prossimo servizio pensare di poter tirare il fiato andando incontro ad una partita abbordabile sarebbe uno dei più grandi errori che la Palacanesto Trapani potrebbe fare domenica infatti al Palaconad arriva a Biella la squadra di coach Paolo Galbiati lo scorso anno a Torino in A1 è assolutamente una squadra stata costruita per fare il salto di categoria molto fisici atletici che fanno del basket veloce il loro marchio di fabbrica gli elementi che compongono il roster sono di assoluto valore in cabina di regia troviamo il play d'esperienza Saccaggi la guardia è il miglior under del campionato Bortolani che solo nella scorsa partita stravinta con Roma ha realizzato 30 punti in 31 minuti con 7 su 8 da 3 dalla piccola troviamo Polite tutti provenienti dal piano superiore gli altri due del quintetto Donzelli da 4 e Omogbo e il pivot dalla panchina Pollone a cambiare gli esterni a dare una mano ai lunghi ci sono Eric Lombardi e Barbante squadra lunga quindi per una pallacanestro veloce e dinamica la pallacanestro Trapani dal canto suo deve ritrovare la conduzione fisica per non cadere nuovamente nell'errore di pagarla poi dal punto di vista mentale e nervoso grazie a tutti grazie a tutti Bisbini Park verso la chiusura forzata, una notizia che lascia l'amaro in bocca seppur presa nella piena legalità e legittimità degli uffici tecnici del comune di Trapani che hanno intimato al Bisbini Park lo sgombero dell'area dove insiste la tensostruttura divenuta appunto riferimento per tutto il comprensorio di Trapanese dall'8 febbraio il parco giochi dovrà essere smantellato, rimangono pertanto pochi giorni a meno di ripensamenti degli uffici comunali per usufruire delle attività ludiche per i piccini vediamo il servizio dell'approfondimento Io ho una bambina piccola di 5 anni e mezzo, Eva, che adoro ovviamente, come moltissimi genitori di questa città e del comprensorio di Trapanese ho fatto per anni fino a oggi ancora riferimento a questa struttura alle mie spalle per consentire alla mia bambina feste di compleanno, qualche domenica o qualche sabato pomeriggio in allegria e in sicurezza di passarsi la sua infanzia anche nel pieno dei giochi gonfiabili, quelli sicuri sono al Bismini Park, chi non lo conosce? Bene, da ieri abbiamo saputo che a questa struttura è stata fatta un'ingiunzione di sgombero pena il sequestro di tutto quello che vedete alle mie spalle questa struttura che vedete alle mie spalle non è solo un'impresa privata svolge una funzione sociale in questa città ora io ritengo che sia assurdo che dopo 10 anni di proroghe, di autorizzazioni, di rinnovi il Comune di Trapanese scopra che bisogna smantellare tutto pena il sequestro, che è una cosa grave eppure questa struttura, gli imprenditori di questa struttura hanno una regolare licenza da sempre ovviamente la licenza, l'autorizzazione della questura scade a maggio il Comune, gli uffici scoprono e non vogliono sentirne, non vogliono sentire altro che siccome risulta attività viaggiante non possono essere stanziali ma scusate ma li avete autorizzati voi per 10 anni a stare in questa area tra l'altro privata io lo vedo amareggiato, arrabbiato, proverò a farlo stare, dico se non sereno quantomeno insomma lucido per non esagerare con le parole però Gianni Bisbini, ma chi non lo conosce Gianni? Gianni hai la nostra solidarietà intanto certo c'è qualcosa che obiettivamente non va secondo gli uffici comunali però vediamo di trovare una soluzione esatto, il mio intento è questo perché per me è stato ovviamente un colpo molto duro un pugno allo stomaco insomma a prendere della demolizione della struttura io accetto che debba togliere tutto ma trovare una soluzione, trovare un'alternativa o perché magari non aspettare la scadenza naturale del 31 maggio intanto o perlomeno mi sono attivato perché abbiamo fatto un ricorso perlomeno aspettare o magari l'esito di questo ricorso anche questo a quanto pare non viene accettato abbiamo chiesto una sospensione ma non viene accettato chi? Dagli uffici comunali, dal sindaco? No, 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 dagli uffici comunali, dall'ufficio tecnico il sindaco in questo caso magari l'unica cosa che avrei voluto un po' più di solidarietà un po' più di sensibilità per quello che era di competenza magari dell'amministrazione dire, convocarmi e dire guarda Gianni noi capiamo che comunque la struttura ha dato un servizio sociale molto importante alla città e adesso non puoi più rimanere su quell'area per questo, questo e questo troviamo un'alternativa ad oggi no ad oggi mi è stato solamente detto se io lotto, vengo e trovo ancora tutto montato diventa di mia proprietà esci fuori, sequestriamo tutto ecco, questa è la cosa che veramente qua ci sono tutta la mia vita di sacrifici dipendenti scusami sono emotivo ma non solo una funzione sociale Bisbini Park è stato punto di riferimento per i tanti turisti che sono arrivati in città in una città normale, moderna, accogliente votata al turismo e alla cultura c'è certamente un parco giochi per bambini in una struttura con gonfiabile e quant'altro videogiochi, altre tipologie di giochi dove fare anche i banchetti i turisti arrivano e non sanno dove andare vanno al Bisbini Park hanno fatto anche, hanno svolto anche funzione turistica oltre che sociale e scusami io sono arrabbiato per questa vicenda ho fatto la parafulmine che che se ne dica tutte le strutture ricettive quando arrivano i turisti le famiglie con i bambini che danno per scontato che in una città turistica ci sia un parco giochi in realtà non c'è quindi si paravano il colpo dall'imbarazzo direi noi abbiamo il Bisbini Park e non solo quindi a livello turistico senza nulla togliere anche al fatto che in primavera adesso le gite scolastiche arrivano con i pullman da tutta la provincia ma arriva gente da Mazzara, ma arrivano i pullman da Marsala da Castelvetrano, da Alcamo e non per ultimo ma non per... io sono orgoglioso di essere trapanese due anni fa sono andato dal Papa dove tutti i vigili ne parlarono e io orgogliosamente dissi io... ci sono famiglie che lavorano in questa struttura non è solo una vita di una famiglia di imprenditori di artisti ci sono lavoratori in questa struttura non lo faccio parlare più uffici comunali sindaco di Trapani trovate una soluzione provvisoria la licenza gli scada il 31 di maggio adesso arriva pure Carnevale trovate una soluzione eccoci con la seconda edizione del nostro TG la sindaca di Erice Daniela Toscano prosciolta non usò impropriamente l'auto di servizio il GIP ha archiviato il caso il giudice per le indagini preliminari di Trapani ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della sindaca di Erice Daniela Toscano accusata di peculato e abuso d'ufficio per l'utilizzo improprio della vettura di rappresentanza ne ha dato notizia nella tarda serata di ieri la stessa sindaca specificando che il giudice ha ritenuto infondata la notizia di reato non sussistendo alcuna condotta illecita i fatti risalgono al novembre 2018 Daniela Toscano consentì l'utilizzo della vettura in rappresentanza alla consigliera Miceli perché questa potesse assicurare la propria presenza in seduta del Consiglio Comunale l'utilizzo della vettura si legge nell'ordinanza avvenne per finalità istituzionali il pronunciamento del GIP secondo Daniela Toscano dimostra quanto sono pretestuose le denunce di taluni soggetti politici che sconoscono leggi e regolamenti una stoccata nei confronti del Consigliere Comunale Alessandro Manoguerra dal quale partì l'esposto il provvedimento di archiviazione ha detto la sindaca ha riconosciuto la legittimità del mio operato come sempre lo è stato in questi anni di amministrazione infine Daniela Toscano coglie la palla al balzo per rigettare l'ultima recentissima vicenda legata a un decreto penale di condanna che le sarebbe stato inflitto per una vicenda a margine di quella dell'assessore catalano nessuna condanna è stata inflitta alla sottoscritta dice più semplicemente la procura ha ritenuto di attivare un procedimento speciale appunto il decreto penale che peraltro in segni giuristi hanno tacciato di essere un istituto legato al vecchio codice inquisitorio ad oggi nessun decreto penale è stato notificato né a me né al mio difensore dice la sindaca toscano quando e se mi verrà notificato questo fantomatico decreto poiché non si tratta di una vera condanna provvederò tempestivamente a proporre opposizione e a chiedere il giudizio ordinario certa come sono che un giudice terzo non potrà che riconoscere la mia estraneità ai fatti contestati la sindaca di Erice Daniela Toscano forte del proscioglimento rigetta con altrettanta forza la notizia della sua condanna per decreto penale ma per comprendere bene di cosa si tratta è necessario spiegare l'istituto del decreto penale si tratta di un procedimento speciale il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare sia il dibattimento è disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero quando quest'ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria anche se in sostituzione di pena detentiva purché non sia necessario applicare anche una misura di sicurezza la richiesta del pubblico ministero avviene entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro delle notizie di reato l'imputato ha la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dall'emissione dello stesso richiedendo o il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena o il giudizio immediato il giudice dovrà poi valutare se sostistono i requisiti per dichiarare l'opposizione ammissibile altrimenti il decreto diviene esecutivo il legislatore per incentivare l'imputato a non opporsi al decreto penale di condanna ha previsto che il pubblico ministero possa chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale inoltre il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena il vescovo di Trapani Fragnelli è stato oggi in visita a Telesud in occasione del santo patrono dei giornalisti l'occasione dopo quella di poche settimane fa per gli auguri di Natale è stata la ricorrenza di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti il vescovo Fragnelli è stato accolto dal direttore Nicola Baldarotta a cui ha donato un quadretto con il simbolo della diocesi di Trapani nel corso dell'incontro con la redazione tutto lo staff dell'emittente Fragnelli ha commentato un passaggio del Laudato Si di Papa Francesco in cui si parla di civiltà dell'amore diversi temi su cui si è soffermato a partire dalla ricerca della qualità e il ruolo di educatori che possono avere i giornalisti stigmatizzando certe cronache recenti anche nel confronto avuto con il presidente di Telesud Massimo Marino dove si è tenuto troppo poco conto della pietà umana scadendo nel sensazionalismo di maniera che certo non giova alla società e alla stessa categoria ma sentiamolo ai nostri microfoni sicuramente questo tema dell'educare attraverso la comunicazione è un tema di estrema importanza io sono fiducioso che anche i nostri esperti della comunicazione in loco si attiveranno si attivano sempre di più a ridefinire la cornice perché tutti i fenomeni macrofenomeni dell'immigrazione della globalizzazione impongono una rilettura diciamo della cornice entro la quale comunichiamo diamo delle notizie ma tutto questo non può essere fatto senza una attenta lettura delle situazioni locali quindi c'è una cornice interna diciamo così quindi la qualità nasce nella tensione tra la cornice esterna e quella interna e fa sì che in un caso e nell'altro ci sia sempre la persona al centro ci sia sempre la persona più vulnerabile ci sia sempre direi l'incoraggiamento alle situazioni costruttive positive ci sia sempre anche una capacità di giudizio perché alla fine l'operatore della comunicazione è educatore nella misura in cui insegna a distinguere quello che è per il bene comune e quello che è contro il bene comune in questo senso educare significa attraverso i media attraverso le immagini nella parola significa fare sempre un passo avanti coraggioso un mondo quello dei social media li chiamano in questo modo in cui si va sempre più alla cerca dei like della condivisione del numero di questi numeri che a volte però scacciano un po' quelli che sono i veri valori dell'umanità della verità quello che un po' è la nostra mission ma che oggi va su internet e che viene fatto un po' da tutti sì ma io rifletto spesso sull'idea che cosa mi piace in questo mondo della comunicazione facile dei like facili o dei like discutibili no? che cosa realmente mi piace io vorrei augurare auspicare che possa sempre di più piacere quello che piace a tutti e non alla singola persona all'individuo vorrei cercare direi una sorta di grammatica del piacere che passa attraverso un uso intelligente saggio dei nuovi media dei nuovi social la capacità di non essere succubi insomma di una diciamo tendenza a intruppare diciamo tutta la tutta la gli utilizzatori dei media in persone che rispondono soltanto a degli input di natura economico commerciale insomma ecco questo è importante in questo senso educare anche attraverso l'uso non bisogna fuggire dalla realtà dei media bisogna educare a utilizzarli bene attraverso appross a a a a a a Grazie a tutti.